Fegato Grasso La causa alcolica, quindi feda, fegato grasso, non alcolico. Perché? Perché se ci fosse presente l'alcol cambiamo il discorso, dovremmo aggiustare il tiro e parlare in modo diverso. Io mi sto riferendo quindi ai non bevitori che hanno il fegato grasso. Perché il fegato diventa grasso? Perché si accumulano trigliceridi. Quando questo accumulo è superiore al 5% del peso del fegato, piccola parentesi, il fegato pesa grosso modo un chilo, un chilo e due. Ovviamente ci sono delle variazioni che vanno da un chilo, un chilo e due, fino a tre chili. Però, mediamente, siamo da un chilo a un chilo e mezzo. Quando viene sostituito, quindi si inserisce in questa massa il 5% ed oltre di trigliceridi, si sviluppa quel fegato di cui stiamo parlando. Fegato grasso. Attenzione, questi soggetti, abbiamo detto prima, non sono persone che bevono, ma sono persone che possono assumere una quantità modesta di alcol, per esempio il vino al pasto, che non è assolutamente controindicata. Basta che ci mettiamo, d'accordo, sotto il 20-30 più o meno grammi al di. Traduco. Vuole dire un bicchiere, un bicchiere e mezzo al pasto di vino, come gradiamo? Possibilmente rosso, perché è più ricco di polifenoli, quindi ha dei vantaggi, oltre agli svantaggi nel caso di abuso. Come facciamo a fare la diagnosi? Ma, guardate, la diagnosi è quasi sempre una questione occasionale. Uno va a fare un'ecografia dell'addome, perché magari ha un dolore, perché il medico ritiene di dover approfondire questa sintomatologia riferita al paziente, e noi troviamo nel referto dell'eicografista epatosteatosi. Chiedi al soggetto, stai bene? Certo, la massa di questi soggetti non hanno assolutamente niente, però hanno il fegato grasso. Allora, attenti, questo non è un problema degli adulti, degli anziani, dei bevitori. Ahimè, è anche un problema dei bambini. La scuola romana ha studiato l'epatosteatosi nei bambini, e questo è sempre da abuso di zuccheri semplici. È un problema, perché va risolto, uno non può invecchiare bene, passatemi il termine, se ha un sovraccarico del fegato da parte di grassi, da parte di questi trigliceridi. Allora, il 25% degli italiani, fra i 18 e i 65 anni, hanno un'epatosteatosi. Spesso questa epatosteatosi è correlata con quella che si chiama sindrome metabolica, che è un importante fattore di rischio per l'arteriosclerosi e le sue complicanze. Sindrome metabolica significa avere obesità sovrappeso, cosiddetta obesità centrale, essere in sovrappeso, avere, abbiamo detto, i trigliceridi alti, avere un'alterata glicemia a digiuno, iperglicemia si chiama, e ancora avere HDL, che sarebbe il colesterolo buono, basso. Sapete bene che il colesterolo buono più è alto, più siamo protetti. Questi signori ce l'hanno basso. E infine, in questa sindrome metabolica, è compresa anche l'ipertensione, la pressione alta. Quindi, ribadisco, questi soggetti epatosteatosi, sindrome metabolica, vanno catalogati come persone a rischio cardiovascolare. Attenti però, anche a livello epatico, non è che la cosa dice, vabbè, c'è un po' di grasso nel fegato, va bene così e lo stesso, no, perché si può andare incontro a una infiammazione del fegato stesso, conseguente a questo, steatoepatite, che può evolvere e a questo punto sì dare dei problemi. Quindi bisogna intervenire prima di questa eventuale complicanza. non dimentichiamoci che il 2-3% dell'epatosteatosi può trasformarsi in infiammazione di questo fegato. Cosa si deve fare? Dieta. Dieta vuol dire non eccedere nelle calorie e non eccedere nei grassi. La dieta deve essere orientata ad aumentare, rispetto alle nostre abitudini, frutta e verdura. Ci sono terapie, oltre alla dieta, che è la terapia fondamentale, no, non ci sono terapie specifiche. C'è chi usa la vitamina D, c'è chi usa i corretti Omega 3, c'è chi usa l'urso desossicolico, ne parleremo perché è un farmaco che ha a che fare con i calcoli della cistifellea, ma i risultati si ottengono esclusivamente rivedendo il proprio stile di vita, quindi non solo la dieta. Grazie, buonasera. Grazie. 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 Grazie.